Buongiorno, oggi parleremo di Donald Winnicott. Molti credono che se un bambino ha sofferto per una educazione priva di amore e di sostegno, sarà capace di stabilirsi e di crescere felice in una nuova famiglia che gli dà ciò di cui ha bisogno. Tuttavia, benché la stabilità e l'accettazione aiutino a gettare le fondamenta su cui un bambino può crescere, può trovare una condizione esistenziale sana, queste qualità rappresentano soltanto una parte di ciò che è necessario. Winnicott la pensava così e aveva una visione tutta sua del rapporto madre-neonato e quindi del processo evolutivo dei bambini. Winnicott fu molto influenzato da Freud, ma anche dagli scritti della Klein, in particolare quelli riguardanti i sentimenti inconsci della madre e di chi si prende cura del neonato. Winnicott iniziò la carriera lavorando con bambini che erano stati sfollati durante la Seconda Guerra Mondiale ed esaminò le difficoltà che dovevano affrontare questi bambini che cercavano di adattarsi ad una nuova famiglia. Come osserva nel suo saggio l'odio del controtransfert, Winnicott dice è risaputo che non basta prendersi in casa un bambino adottato e amarlo. In realtà i genitori devono essere in grado di prendere in casa il bambino adottato e di tollerare il fatto di odiarlo. Può sembrare una frase strana questa. Winnicott sostiene che un bambino può credere di essere amato soltanto dopo essere stato odiato e sottolinea che il ruolo svolto nella guarigione dalla tolleranza dell'odio non può essere sottovalutato. è importante. Winnicott spiega che quando un bambino è stato privato di una adeguata educazione da parte dei genitori e gliene viene concessa l'opportunità in un ambiente sano come una famiglia adottiva o affidataria allora inizia a sviluppare delle speranze inconsce alle quali però è associata alla paura. Alle speranze è associata alla paura. Quando un bambino è stato deluso in maniera così devastante in passato e quando non sono state soddisfatte neppure le sue esigenze fisiche ed emotive di base scattano le cosiddette difese che sono delle forze inconsce che proteggono il bambino dalla speranza che può portare poi alla delusione. La speranza porterebbe alla delusione. Queste difese sostiene Winnicott spiegano la presenza dell'odio. Il bambino esterna in un accesso di rabbia contro la nuova figura genitoriale esprimendo odio e a sua volta invocando odio da chi si prende cura di lui. E Winnicott definiva questo comportamento una tendenza antisociale. E cosa aggiunge? Aggiunge che al piccolo deve essere consentito di esprimere quell'odio e dice che i genitori devono essere capaci di tollerare tanto l'odio del bambino quanto il proprio. Questa è un'idea che turba. Si vorrebbe opporre all'odio che si sente salire dentro di sé e che genera un senso di colpa perché il bambino ha già dovuto affrontare tante difficoltà. Eppure si sta comportando apposta in modo odioso con i genitori, proiettando le esperienze passate dell'abbandono sulla realtà presente. Il bambino orfano o con una famiglia disgregata, dice Winnicott, passa il tempo a cercare inconsciamente i genitori. E così i sentimenti suscitati dai rapporti passati vengono trasferiti su un altro adulto. Il bambino ha interiorizzato l'odio e lo vede anche se non c'è più. Nella sua nuova situazione ha bisogno di capire cosa succede quando l'odio è nell'aria. Winnicott spiega, ciò che accade è che dopo un po' il bambino adottato inizia a sperare e quindi comincia a verificare l'ambiente che ha trovato e comincia a cercare le prove che il suo tutore sappia odiare con una certa obiettività. Un bambino ha molti modi per esprimere odio e dimostrare di non essere degno d'amore. Questa indegnità è il messaggio che gli è stato trasmesso dalle precedenti esperienze negative. Dal suo punto di vista il piccolo sta cercando di proteggersi dal rischio di dover provare amore o di essere amato a causa della possibile delusione che accompagna questa condizione. Le emozioni che l'odio del bambino suscitano nei genitori, come pure negli insegnanti e in altre figure autoritarie, sono molto reali. Winnicott ritiene essenziale che gli adulti ammettano questi sentimenti anziché negarli e devono anche capire che l'odio del bambino non è personale. Il bambino sta esprimendo con la persona che è presente adesso l'ansia per la sua precedente situazione infelice. La convinzione del bambino di essere cattivo e indegno di amore non deve essere rafforzata dalla reazione dell'adulto. L'adulto deve semplicemente tollerare i sentimenti di odio e capire che fanno parte del rapporto. Questo è l'unico modo in cui il bambino si sentirà al sicuro e saprà formare un attaccamento adeguato. Per quanto amorevole possa essere un nuovo ambiente non cancellerà il passato del bambino. Ci saranno sempre sentimenti residui derivanti dalla sua passata esperienza. Per Winnicott non esistono scorciatoie. Il bambino si aspetta che i sentimenti di odio degli adulti li portino a rifiutarlo, perché è ciò che è già accaduto. Quando l'odio non porta al rifiuto e invece viene tollerato può iniziare pian piano a svanire. Questo sarebbe un odio sano. Anche in famiglie psicologicamente sane, con bambini che non sono stati sfollati, quindi Winnicott ritiene che l'odio inconscio sia una componente naturale ed essenziale dell'esperienza genitoriale e parla di odiare nel modo giusto. Melanie Klein aveva ipotizzato che il bambino provasse odio verso la madre, ma Winnicott pensa che questo sia preceduto dall'odio della madre per il piccolo e che ancora prima ci sia un amore straordinariamente primitivo e spietato. L'esistenza del bambino richiede moltissimo alla madre, sia dal punto di vista psicologico e sia dal punto di vista fisico, e questo suscita nella madre dei sentimenti di odio. Winnicott stila un elenco di 18 motivi per cui la madre odia il bambino, tra cui la gravidanza e il hanno messo a repentaglio la sua vita. Il neonato interferisce con la sua vita privata, le fa male quando lo allatta e persino la morde. Nonostante tutto questo lei lo ama, dice Winnicott. Lo ama di un amore potentissimo, primitivo, e deve imparare a tollerare il fatto di odiare il proprio bambino, senza che in alcun modo possa agire in base a quell'odio. Se non sa odiare nel modo giusto, la madre finisce per rivolgere i sentimenti di odio contro se stessa, in modo masochistico e malsano. Winnicott usava anche il rapporto tra genitore e bambino come un'analogia del rapporto terapeutico tra terapeuta e cliente. I sentimenti che un terapeuta prova durante l'analisi fanno parte del fenomeno noto come controtransfert. I sentimenti suscitati nel cliente o nel paziente durante la terapia, di solito riguardanti genitori o fratelli, sono trasferiti sul terapeuta. Nel suo saggio Winnicott descrive in che modo durante l'analisi il terapeuta prova verso il suo paziente un odio suscitato dal paziente stesso come una parte necessaria della capacità del terapeuta di tollerarlo. Il paziente ha bisogno di sapere che il terapeuta è abbastanza forte e affidabile da sostenere appunto quell'aggressione. Winnicott era un tipo realistico e pragmatico e si rifiutava di credere al mito della famiglia perfetta o di un mondo in cui una parola gentile ha il potere di cancellare tutti gli orrori che l'hanno preceduta. Preferisce vedere gli ambienti e gli stati della nostra esperienza come sono davvero e questo implica grande coraggio e onestà. Bene, io mi fermo qui e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche per cui se volete richiedervi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo un messaggio del tipo come funziona la consulenza specificando il vostro nome e cognome i vostri orari preferiti. Poi mi potete trovare anche su youtube dove troverete una serie di video dedicati ai vari temi della psicologia. Sono anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia. Inoltre vi informo che ho scritto quattro libri che si trovano soltanto su amazon sia in versione cartacea che in versione ebook. In bocca al lupo!